Ieri ero proprio stanco, questa mattina ho avuto la sveglia alle 6, la spengo e poi me riaddormento per cui partenza tardi verso le 7, oggi non sono tanti chilometri da fare, adesso vado a far colazione con calma e poi comincio a camminare, tanto il cielo è leggermente coperto e spero di non pagarla poi sul tardi. Nulla di che, solo che è il primo ruscello di acqua corrente che vedo da quando sono partito, da quando sono partito da Siviglia. Oltre alle classiche frecce di direzione ci sono anche questi cippi generalmente messi con questo segno giallo che indica la direzione da prendere con il simbolo della Via della Plata. Grazie a tutti. 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 più esperti in Estremadura. Dopo quelle dune c'è il mare, vero? Grazie per la visione! Un piccolo giro, sto navigando nell'oro! Un piccolo giro! Bye-bye! Un piccolo giro! 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 Un piccolo giro!